oh sascia oh com'è? t'a posto? t'a posto zii finito di lavorare come munnezza si si guarda questo qua nel mio bel ciamoncino guarda ti mando anche affanculo ah no aspetta questa è una pistola di ciamoncino? si si siamo nel ciamoncino seguiamo l'hammer seguiamo madonna ti ammazzato dai qui dentro dai qui dentro cazzo è arrivata la pula di già ma devi arrivare a 5 stelle per il cornetto ah 5 stelle san montana? tu madre puttana si comunque perchè ti chiami 90? in caso sei a 90? ma continua a rompere le scatole 88 c'è la cagna la cagna qua no io voluto mettere 90 così è più alto di 88 e stefano non rompe le palle ah hai capito va a me oh cazzo non ti preoccupare non ti preoccupare è una questione di skill ammazza pula ah si? tu stai sperendo uccia muncine? io ho fatto headshot siamo a 3 stelle stai afferri uccia muncine vai vai ma dove sei sceso? ho ucciso la pula sta uccidendo ma perchè sei sceso? e c'è muncino e stile zio sto arrivando merdee ecco oh evadiamo la pula così almeno ci guardiamo lo stetto vai vediamo ah ok ora si che ti manda a fa cura ragazzi guarda come gli faccio il giro del mondo cosa? ma no ma sono mica scemi ragazzi ho imparato a guidare proprio dal corso ma fa culo macchinetta rossa no quella è un uzi ahahahahah è bellissimo vedere così ah infami raga mi venite a prendere? non stai? aspetta aspetta ora controllo zio ma sembri uno spacciatore sembri jesse pinkman ma chi io? ma io non so come sono fatto ma come non so? eh no mi hanno creato un account così a caso morite infami dove siete? oddio cosa stai? oh mio dio what the fuck dove siete? moriremo da eroi eh no purtroppo qua non posso mi hai vestito la macchina della polizia due volte infami ah bella macchina questa ah è la macchina e vabbè facciamo il trice stempi è morto grande stempi grandi stempi bravo così 130 ma c'è star wars no porca troia c'è la pula qua si è l'audio road ecco qua fermo fermo ma perchè sei una macchina della polizia vai prendiamo quella scendi 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 prendiamo quella non si può allora scendi 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 voi avete le armi raga? come no? no 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 che cazzo stavo controllando se avevo le armi attento si controlla col tab ma cosa fai sali vai vai che non ci prendo ok 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 del piero ferro ma che cazzo oh che volete che vi conosce? via 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 è il vaso il vaso mi ha beccato il vaso ah ah me ne vado a destra buba de merda non è buba oh il fucile a pompa io sparo l'elicottero sai cazzo che me ne frega ma mori si sta scappando si sta scappando ha paura vieni vieni ragazzi sono i navighi buttati in acqua ma come i navighi non mi avrà mai la polizia arrivo arrivo merde ah ah vanno buttati in acqua come noi buttati in acqua vai sotto vai sotto io sono già fuggito da questo mondo infame ma cosa c'è quella tre stelle dai zitto arrivo raga arrivo raga 130 sono in una camaro del 68 130 raga sono incappottato fatto bene dove sei aspetta che sono qui sono qui aiuto aspetta ma questo è solo due posti poi sascia dove lo mettiamo va bene sale sopra sale sopra aiuto raga aspetta non abbiamo le armi vai contro la bura vai oddio in testa ma ammazzato vabbè siamo morti tutti siamo morti tutti le sette ricominciamo ah in tempo della pula ah ma c'ha pure i ferri davanti oddio fai troppo ridere oddio perché è arrivata la pula sono io no la pula le stelline dico io non ce l'ho io si due cose velocissime qua vai 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 no no aspetta voglio voglio oggi questa è la lambo è la lambo è la lambo vai vai qualcuno entri con me c'è la sua vai stai entra veloce stai che cazzo veloce oh oh cattolo mi fa entrare vai 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 sei pronto sa sono vai scappa vai vai bebe bebe mamma mia come si sgomma con lo spazio devi fai la derapata oh no esatto dobbiamo scappare dalla pula nascondiamo trova un garage nascondiamoci no c'è la pula no c'è la pula di la sa no io non la vedo perca troia arrivo da voi mi hanno ribeccato infami bagnanti di merda oh non ci sono qui non ci sono qui la pula scappiamo andiamo sulla spiaggia c'è una lambo da crociera andiamo si può prendere si si queste macchine vanno anche nell'acqua vai sascia ma siete sicuri non vanno sicuro gli act occhio che ragazzi c'è lì sul mondo per van prima c'è uno che sta uccidendo tutti eh che ero sono fame del merda e di fargli capiti sui mates e meno di sole armi però ma cosa ma sta vede guarda girate vera raga ma che cazzo con la cerazzi porca troia bella raga verso la crociera va oh in america ne rubiamo uno sai quanto cazzo me ne frega tanto non c'è manco 21 anni raga scattiamoci non è vero non è vero non è vero entriamo si 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 che si può eh una crociera italiana qua c'è schettino raga mercedes mercedes italia no oddio perché perché sono mezzo morto ti hai investito un pezzo di merda non sale non sale raga è morto stamp sali sali merda sei una merda sali merda sali ok si chiama mercedes italia aspetta mi sta chiamando tudor che cazzo vuoi tudor anche lui mi ha chiamato tudor sto in fame del merda cosa ha fatto comunque ci ha fatto esplodere l'elicottero eravamo sulla barca zio cosa ci avevamo l'elicottero ci hanno sparato con i missili chi è sto in fa infatti vedi un pezzo di elicottero qui no perché si è buttato come si torna su vabbè che sto affogando qua arrivo 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 vai buttati sasha prendilo minchia altro che baywatch sta più morto ti vengo a riprendere ti vengo a riprendere mamma raga c'ho il lamp c'ho il lampotti c'ho il lamborghino c'ho il lampottino vai vado andiamo a salvarlo eccolo 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 vai vai vieni qua ora io direi o ci schiantiamo contro il peschereggio no zì c'è una so io dove prendere l'elicottero vai tutto a sinistra tutto a sinistra cioè segui la costa segui la costa ci stanno sparando porca puttana figlia di puttana ho detto cazzo sono arrivati i tedeschi sono salvo la guardia mondiale le aspettate no no stai ti facciamo missione in soccorso in mare lascia stare ma io ora sono sulla terraferma oh grande genio abbiamo l'elicottero te lo sai guidare però si zio ti preoccupare vai vai perché io non lo so guidare mi nonno e mia zia guidavano quelli di soccorso vai figo bello figo go solo il decollo penso sia il la parte più difficile ma premi R2 ah vero sono da computer dove sei zio c'è solo un problema si alza si abbassa si gira a sinistra e a destra ma come si inclinino avanti? con il mouse in teoria eh no non si inclina con shift prova shift prova F F? no F esco cazzo bastardo eh prova cambiamo di posto si può? prova tipo oddio premie del mouse oh così sei andato avanti ok ok devo tenere cazzo duro allora ti tieni la destra sto arrivando come stai arrivando sono noi da te è la è la destra lo vedi è qua sotto di voi a terra a terra oh che atterraggio perfetto vai stempi stempi di merda lo si fa a impennare devo mettere la moto dentro mahehe sei il che fa asada veloce entra zi si può sparare come cazzo sparo e io non posso tu e libero es posto arrivo 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 ray arrivo arrivo vai 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 entra entra veloce entra vai vai sali sali vai veloce sali 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 stefano li è tipo il leggetto o va ti manda a fa culo ste non ce la fanno è vero ma stai guidato l'elicottero scalzo e mezzo nudo è bellissimo attento che sta succedendo siamo in fallo siamo in fallo siamo in stallo ok un attimo anche giro e vai giusto 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 o sembra la scena di civil war siamo atterrati vai siamo atterrati ok non era proprio centrale bella raga assassin's creed no no oggi ho vinto 30 euro guarda oddio non ci tranciare a metà però sono in ciabatte sul riguardo oddio si è voluta saltare aspetta aspetta ma doveva saltare non ho capito mi sull'elicottero ma moriamo no devi entrare tipo salti premi f non si può raga vai vai sono sicuro che sei pronto merde siamo pronti merde oddio no no ho sbagliato ho sbagliato nella piscina pure sono finito sono qui sotto a merde no che sei dall'altra parte arrivo oddio che ho sparato chi ci sta nessuno la polizia ma è ben messo di nuovo è la quarta volta è sto video capito il paracadute ma è ora sto arrivando sto arrivando sto arrivando sto arrivando vai dove stai però non lo so dove stephen king lui mi ha ucciso chi lui mi troia mi spavano oddio terroristi ah no guarda che sono fuochi d'artificio che figata aspettatemi radio ah non ti stanno sparando è che sei arrivato secondo nella sfida guarda ah sì e che cosa sarebbe non lo so ad raga erano missili ok ma non era la sfida no erano missili ok sorrivo ti ho creduto però vabbè c'è un altro elicottero davanti a me ti avevo creduto e culo assurdo vengo a prendere raga come com'è che si che si parte con la doppia v vai lezzani ma sto arrivando arrivando a mi devo vendicare merda 130 io duri veloce c'è un altro elicottero oddio incidente stradale in aereo in aria ok sto sto atterrando una terra oddio sto tracciando il semacolo ragazze da me non arrivare vai 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 ce la faccio poi arrivando dove sei a destra appena fatto non so perché la pula ce l'abbia con me aiuto non lo so sono di qua fidati di me non ti preoccupare lo facevo sempre era piccolo sto arrivando oddio ti raggiungo merda ma sei quello dell'autobus vieni qua vieni qua vieni dove sto cadendo vieni qua vieni qua stai addio veloce fermo ragazzi per questo video è tutto ragazzi sono tantissimo stampi e anima per se state qui con noi e vi saluto ciao tengo dentro rato arrivo vera